Si aggrava il bilancio delle vittime della frana che lo scorso 3 agosto ha distrutto la località turistica di Shobi in Georgia. Sono ormai 26 morti accertati, mentre 7 persone risultano ancora disperse. Proseguono intanto le ricerche da parte dei soccorritori che si concentrano sia in ciò che resta degli edifici, sia nei letti dei fiumi Rioni e Cianciacta. Il Ministero degli Interni della Georgia ha fatto sapere che il 90% dell'area è stato ormai passato al setaccio, grazie all'impiego di uomini e mezzi adatti sia alla ricerca in acqua che a terra.